Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo su Final Fantasy XVI e necessariamente bisogna continuare le cacce perché sono state aggiornate, ci sono altri mostri da andare a prendere ammazzate per cui dire di non perdere ulteriore tempo. Nektar, dimmi mio cucciolo, cosa abbiamo da buttare giù? Ecco qua, tra l'altro se ne è giunto un altro adesso. Bene, allora iniziamo con Secret. Vi ho ormai da lungo tempo che i minotauri abitano le regioni montuose di Rosaria, ma solo di recente hanno iniziato a scendere dalle alture per andare a caccia nelle paludi che circondano il rifugio di Marta. Una tra loro spicca per le imponenti dimensioni, a indicare che probabilmente si tratta di un capobranco. Pare sia tale esemplare a spingere all'avanzato dei suoi simili verso sud. Deve essere fermato, onde evitare che gli uomini bestia facciano del rifugio quello che vogliono. Quindi posizione, ovest del sentiero Rhiannon, Rosaria. Ok, quindi si trova nel continente di Rosaria. Allora, continente di Rosaria che deve essere di qua. Questo è il rifugio di Marta. Quindi vediamo se... ha detto il sentiero di Rhiannon, giusto ovest del sentiero. Allora, questa è la scogliera, costa, porto i soldi, acquitrino. Allora, vediamo... no, allora, vediamo... Bosco scuro, rifugio di Marta. Eccolo là. Però il sentiero... non mi appare. Perché loro, vedi, stanno andando verso il rifugio... C'è il bosco scuro. Allora, il rifugio di Marta, strano però, eh? Forse... Eh... non credo che sia di qua. Questa scogliera... Acquitrino, Sorwise... Eppure... oddio. Eh sì, perché vedi, qua siamo tutti collegati alla fine. Allora, il rifugio di Marta è qua. Loro però hanno detto... ecco, aspetta, l'abbazia... qua c'è l'abbazia... Ecco, qua è... sentiero di Rhiannon, quindi a ovest del sentiero di Rhiannon, quindi sarà qui, in questa zona qua. Ok, perfetto. Teletrasportiamoci e andiamo. Eccoci qua. Siamo arrivati. La posizione precisa è esattamente qui su, perché... L'indicazione, effettivamente, dice a ovest del sentiero Rhiannon. Quindi qua abbiamo il sentiero e noi ci troviamo esattamente a ovest, sopra il rifugio di Marta. Perché, appunto, i troll stanno andando a caccia verso sud e potrebbero spingersi verso il rifugio di Marta. Ecco perché, appunto, sono dovuto andare più in là. Ma comunque, l'abbiamo trovato, quindi picchiamolo. Secret, grado B. Let's go! Mmm, bello, carino. Maledetto, mi ho preso mentre facevo l'animazione. Eh, un bel resistente, lì, eh? Vado a vantia capiamo. Ah, lo stesso moveset del... del gigante goblin, comunque. Quindi, diciamo, non è un moveset così diverso. Tappoletto. Tappoletto. Porca miseria. Beh, becco di questo. Niente, una volta che... ti colpisce la combo è finita. E' finita! Però, ce l'abbiamo fatto. Uh, level up. Criniere di Minotauro. Yes! I abitanti adesso saranno più tranquilli. Perfetto. E adesso, let's go! Verso la prossima caccia. Bye bye!